Riuscire nel 2011, dopo una sconfitta elettorale, ad essere pronti non solo sul piano politico a smentire chi parlava di implosione del PDL e a dare vita, come abbiamo visto nel Consiglio Nazionale, a una nuova fase, a un rilancio, a una svolta decisiva, ma dimostrare subito, anche organizzativamente e soprattutto a livello di entusiasmo, di volontariato, che il PDL continua ad essere e lo è forse ancora di più un partito di militanza, di impegno, di idee e quindi anche di volontà, è già di per sé un messaggio politico.